Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Dei lavoratori delle aziende che si trovano nell'area di crisi complessa Val Vibrata, Valle del Tronto. L'ha deciso ieri il CICAS, cioè il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, convocato per discutere e deliberare le misure per l'area di crisi complessa. L'organismo ha anche disposto la proroga dell'indennità di mobilità in deroga in favore di quei lavoratori licenziati da aziende dell'area Val Vibrata, Valle del Tronto. Le misure prescindono dalla residenza dei beneficiari, ciò riguardano anche beneficiari che non risiedono in quei luoghi, residenza che può essere anche al di fuori appunto del territorio regionale abruzzese. Con le risorse e residui a disposizione, circa 6,7 milioni di euro, il CICAS è inoltre disposto di concedere altri sei mesi di mobilità in deroga ai lavoratori che hanno soffrito di un periodo di 12 mesi a partire dal 2017 e ha concesso altri 12 mesi ai lavoratori che si trovano in mobilità ordinaria anche per il 2018. Ieri le notifiche degli avvisi di garanzia ai 14 indagati a vario titolo nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara che riguarda l'inquinamento del fiume omonimo e gli affluenti del suo tratto finale. Coinvolte due società, effettuato anche il sequestro preventivo dello scolmatore B0 della Marina al porto della Madonnina, al porto canale di Pescara, la presenza di numerose forze dell'ordine con imbarcazioni e un elicottero. Sequestrati anche altri due scolmatori e un'altra decina di scarichi nel fiume, tra questi anche uno a ridosso del mattatoio. I reati contestati a vario titolo vanno dall'inquinamento ambientale alla gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti fino all'inadempimento e alla frode in pubbliche forniture, plurimi sversamenti fino alla responsabilità amministrativa di persone giuridiche a seguito di reato. Ieri il vice presidente della regione Giovanni Lolli e il CEO e presidente per l'Europa occidentale di ZTE Ucun hanno siglato la partnership, cioè la collaborazione, che dà il via sul territorio ad una vasta serie di attività tecnologicamente avanzate. Il protocollo si concentrerà in particolare sull'implementazione dei progetti 5G, la realizzazione delle cosiddette smart city a livello regionale e sul piano di sviluppo ICT. Verranno inoltre attuati programmi congiunti con l'obiettivo di organizzare attività per diffondere al meglio ricerche e innovazioni tecnologiche. Una partnership importante, così è stata definita quella tra ZTE e la regione Abruzzo, con l'obiettivo di fare del territorio abruzzese un'area ad alta tecnologia che potrà estendersi anche ad un più vasto livello interregionale con le amministrazioni confinanti. L'accordo istituisce entro e non oltre il 30 settembre un centro di controllo congiunto con l'obiettivo di attuare l'accordo siglato per quanto riguarda appunto in particolare la tecnologia e l'utilizzo della rete internet. Il Tarrabruzzo, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dal centro-sinistra all'Aquila. Si resta dunque in attesa delle motivazioni della sentenza di merito, ma secondo il centro-destra l'appello mancano in 400 voti del seggio 41 e quindi non c'è un ribaltamento delle forze in Consiglio Comunale. Dunque il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e la sua maggioranza restano al loro posto. Al centro-sinistra resta comunque la possibilità di fare ricorso al Consiglio di Stato. Inizieranno la prossima settimana i lavori su due incroci critici della città di Pescara, finanziati con un importo di 100.000 euro previsto dal Fondo delle Opere Pubbliche. Lo annuncia il vice sindaco e assessore lavori pubblici e viabilità Antonio Blasioni a vincere la gara. Dice Blasioni, con un ribasso di circa il 20% è stata una delle ditte partecipanti. Partiranno già dalla settimana prossima e dureranno circa dieci giorni i lavori che sono attesi e importanti, di vista la strategicità e la fruizione delle strade interessate che sono quelle di via Ferrari e via Remogna. Qui, ha detto il vice sindaco di Pescara, faremo un attraversamento a Pellicano, cioè sfalsato, che prevede una isola a salva persona e un collegamento con la pista ciclabile di via Remogna, che presto sarà realizzata. Il nuovo incrocio, secondo Blasioli, favorirà il rallentamento delle macchine e consentirà una maggiore sicurezza alla maggior parte delle persone che attraversano quel tratto stradale molto frequentato da studenti e numerosi cittadini. L'altro incrocio su cui andremo ad incidere, ha detto ancora il vice sindaco di Pescara, è nella parte ovest della città tra strada comunale Prati e via Catani, dove abbiamo riscontrato molti incidenti. Qui si opererà un allargamento della rampa di entrata e uscita su via Catani e la realizzazione di una banchina pedonale. L'idea è quella di creare un camminamento pedonale per chi vuole venire verso il centro città, ma anche di allargare la rampa di accesso in modo da permettere a chi proviene da via Valle Fuzzina e via Selva degli Abeti e a chi abita nella parte bassa di via Catani di accedere in strada Prati senza giri incredibili, al fine di diminuire il transito delle auto su via Colle Innamorati. Con molta probabilità i lavori in questione partiranno dopo le ferie di agosto e dureranno 30 giorni circa. Un pomeriggio di divertimento all'area aperta, tra giochi, trucchi e disegni, lo hanno trascorso le famiglie affidatarie che hanno partecipato alla merenda al parco, l'iniziativa organizzata dall'assessorato delle politiche sociali del comune di Pescara, la Pineta d'Avalos, per festeggiare i nuclei familiari, le coppie o i single che hanno scelto di seguire un minore che sta vivendo temporaneamente un momento di difficoltà o di affiancare l'intera famiglia di appartenenza. Al via da oggi la festa di Sant'Andrea 2018, che fino al prossimo 30 luglio animerà la riviera nord del Poe Fioronte del Porto. Tanta tradizione, la devozione e il rito per il santo protettore della marineria cittadina, con un ospite d'eccezione, quale Massimo Ranieri, per chiudere quattro giorni di festa che mettono insieme Comune di Pescara, Comitato Parrocchiale della Festa, Associazione Armatori e Flag Costa di Pescara. Religione e tradizione animano da sempre questa festa, che è uno dei grandi eventi della nostra città per la sua storicità e per l'attrattività che si esprime, dice l'assessore a turismo e grandi eventi, Giacomo Cuzzi, e la festa giunge della città di mare e della gente del mare, ed è forte e determinante l'apporto della marineria, che è l'anima di questo evento da sempre. Il culmine della ritualità religiosa ci sarà con la processione in mare domenica mattina. Stasera terremo aperto uno speciale punto di vista per ammirare l'eclisse lunare. Il parco del Colle del Telegrafo, la terrazza della città, sarà fruibile dalle ore 20 in poi, per quanti vorranno tenere lo sguardo fisso sulla luna e ammirarne le evoluzioni. Lo ha annunciato il vice sindaco di Pescara, Antonio Blasioni, in vista dell'eclissi lunare prevista dalle 21 con una fase di luna rossa. Diamo la possibilità di vedere da lì, nel punto più alto di Pescara e lontano dalle luci, questo spettacolo. Il resto è tutto libero. Scegliete cosa portare, con chi andare e a che ora. Il parco sarà aperto, tenendo conto che l'eclisse sarà interamente visibile in Italia dal momento in cui la luna sorgerà all'orizzonte. La fase totale inizierà alle 21, 30 minuti e 15 secondi circa e terminerà alle 23, 13 minuti e 11 secondi circa. Il momento favorevole, dunque, secondo il vice sindaco di Pescara, sarà intorno alle 22. Oggi è venerdì 27 luglio e nella diocesi di Teramo Atri si celebra la memoria dei beati Rodolfo, Acquaviva e compagni martiri. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno con temperature da 23 a 29 gradi e venti da deboli e moderati e nelle zone interne cielo sereno fino alle ore centrali, poco nuvoloso nel primo pomeriggio, pioggia nel resto del pomeriggio, cielo molto nuvoloso nelle prime ore della sera e nuvoloso in tarda serata con temperature da 23 a 29 gradi e venti da deboli e moderati. Il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale. A voi tutti grazie per averci seguito. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, da Tascia e Regia, da tutti noi di Radio Speranza in blu, a risentirci. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.